Ragazzi, bentornati nel mio salotto, oggi con me è Mattia Tedesco e oggi parliamo della PV HP2, chitarra che sicuramente guarda a Van Allen, ma ha una serie di, diciamo così, modifiche barra migliorie che ne amplinano sicuramente le sonorità. Io bando le ciance? Che dici? Vai, siga! Ok, che bello, super! Allora, avete già capito perché ho chiesto a Mattia di accompagnarmi in questo video, io ho sempre qualche problemino alla spalla, va un po' meglio, riesco a suonare l'acustica, un po' meno l'elettrico, quindi appunto ho chiesto Matti, guarda, secondo me Van Allen, vieni, corri, diamo. Ti cerco di tirar via un po' di ruggine, torno teenager, stanno facendo malissimo le mani, prossimo video vengo io, suoni tu, perché questo è un pietro, sì, ho le mani. Allora, PVHP2 sicuramente, ispirazione Van Allen, 100%, un po' di cambiamenti come vi dicevo prima, vi dico subito, se vi va potete iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati, molti di voi guardano i video ma non sono iscritti, per cui iscrivetevi e in descrizione vi lascio anche il suo Instagram. Ora, facciamogli sentire la prima grossa differenza, cioè la prima particolarità importante, cioè lo split dei pick-up, quello che avete sentito ora immagino fosse il pick-up al ponte. Full, tutto full, tono 10, volume 10, andare, si può splittare, io partirei da splittare quello, quindi diventa il suono sostanzialmente di un single coil, un po' più dinamica, insomma. Esatto, il suono rimane comunque sempre distorto, intanto ciao a tutti, scusate la maleducazione, Io sono qui a fare il suonatore, allora il suono di base comunque sempre a 10 distorto, vediamo un po' come si può comportare partendo da 3, 4 di volume, vedere come ci può seguire con questo single coil. Mi ricordo un po' quei Van Allen metà anni 80, dove c'era qualcosa di splittato, c'era di sicuro, qualche posizione 2, 4, insomma, tipo magari l'album 5150 con Best of Both Worlds. Yeah! Figo. Molto bene, molto bene. Notavo già l'altra volta quando ho fatto il primo video con un'altra HP-2 che risponde molto bene alla dinamica, mi sembra una caratteristica... Già il pick-up al ponte splittato così, è uno spiglio in un occhio solitamente, invece questa risponde già molto bene, sono curioso di provare il centrale. Vai, allora, a questo punto li splittiamo tutti e due e andiamo sul suono centrale, entrambi splittati. Siamo sempre su un 4 e 5 così, non c'è trucco, non ci inganno. Ah! Eccolo lì! Super, super. Bene, bene, bene. Molto figo. E qua, tirami sul volume al massimo e vediamo. Però, visto che eccitiamo, eh... E' meno gay. Come cambia, eh, però? Risponde veramente molto, molto bene. Ti lascio parlare, perché io non suono tutto il giorno e che penso... Va benissimo. No, no, credo che vada bene anche ai ragazzi d'altra parte, vistemelo magari nei commenti se va bene cos'è che ne pensate. Direi che è una chitarra con, appunto, tante sonorità. Gli ho chiesto di partire da, sicuramente, vabbè, la prima roba super vanale, eccetera, più capo al ponte. Però volevo farvi ascoltare queste sonorità qua, che sono, guardano tutto il rock, senza per forza andare in quella direzione lì e basta, ma vi permettono, appunto, di suonare un bel po' di roba. Manico? Manico, split? Sempre split. Sempre split, sempre single coil. Fighissimo. Fighissimo, davvero. Ed è splittato, eh? È splittato, è splittato. Infatti si sente comunque l'attacco che cambia. C'è un bell'attacco, sì, c'è un bell'attacco. Poi è chiaro che questa è una chitarra che arrivando direttamente dal produttore ha le corde sue, quindi sono corde molto sottili, alle quali purtroppo non sono troppo abituato, quindi c'è un po', ti dico la verità, l'intonazione bending, sono abituato con corde leggermente più grosse, però, insomma, giustamente è una chitarra che credo che sa con 9,42, credo, no, principalmente, e che è giusto per quel tipo di sonorità. Quindi ha quel bell'attacco proprio anche della corda sottile che è un piacere averla tra le mani, ecco, è un piacere, soprattutto, esatto, questo satinato dietro, che anche in giornate calde come queste non ti si attacca alla mano. È una cosa molto, molto importante, insomma. In generale l'ho sempre trovata una chitarra estremamente comoda, appunto, come diceva matti prima, anche il tasto importante, il jumbo, ti dà una mano quando suoni. Sì, 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 il jumbo è... Sei a casa con questo. Sono molto a casa con questo perché sono tasti che, a differenza del modello Van Allen, prodotto da PV, quindi per quei dieci anni che c'è stato, erano i suoi tasti, quindi stretti e altissimi, prendere o lasciare, chiaramente. Questa è già una chitarra che l'hanno resa più ok, versatile, più universale, cioè la più a pigliare in mano qualsiasi musicista, anche non legato al mondo di Van Allen, e suoni, e ce la fai, suoni, non senti che è uno strumento troppo firmato, ecco, troppo personale. Certo, e tornerei a questo punto con i suoni a Bucker, così ritorniamo invece su quelle sonorità lì, mi fai sentire anche qualche altro riff al di fuori, appunto, di Van Allen. Sì, sempre distorto, tipo... Vai, vai, vai! Oppure... Fighissimo! Che corde monteresti su questa 10.46? Su questa un 10.46 ci sta benissimo, nel senso non vedo dove stia il problema, basta... Tanto è molto facile anche regolarla, capito? Quindi basta proprio alzare leggermente il punto, comunque farlo fare da qualcuno, ovviamente di esperto, se qualcuno non ce la sente, ma non la vedo una chitarra, ecco, troppo, solo quello, solo quello, solo quello, come avete potuto sentire, si possono fare tante, tante cose, quindi anche una corda più spessa, non vedo dove sia, tipo, sulla mia PV, è stato il momento in cui la volevo usare come baritona, io ho messo su tipo le 13, non ha fatto una piega, scordata, chiaramente, di molto, però... Comunque, ecco, è una chitarra, ecco, da prendere come chitarra, il Floyd Rose a volte è spavente, il fatto che assomiglia a Van Allen, non è che è una chitarra che prendi per fare solo il tapping, alla fine, è una chitarra da provare, che noi lo diciamo, però, non male, confronto con altre, fascia di prezzo, quel budget lì, perché no, è affidabile, suona molto bene, comodissima, leggera, soprattutto leggera, e il colore poi mi piace da matti, proprio bello, 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 bello. L'altra che mi era arrivata era tipo, non mi ricordo il nome giusto, ma comunque una specie di occhio di tigre, cioè, mega giallo, così, era stupenda anche quella. No, ma PV, comunque, si innamorano di qualità, eh, assolutamente, assolutamente. Molto bello. Eh, sì, l'unica, l'unica cosa che ci manca ancora è il pick-up al manico distorto, forse? Non splittato. Non splittato, quindi al bacher, al manico, non splittato, e poi con quello abbiamo chiuso il giro. Con quello mi sa che abbiamo chiuso tutto il giro. Che bello. Comunque, ecco, una piccola parentesi sul floating, no floating, è comunque un ponte che può essere bloccato. Ecco, basta semplicemente abbassarlo un pelo che non va più in su, ecco, questo magari non si riesce a vedere, però se io premo non va più in su. Quindi basta semplicemente una piccola regolazione delle molle dietro, che invece, eh, però lo vorrei appoggiato. Si può appoggiare. Basta regolare. È appoggiato un gradino sotto rispetto al normale, ecco, però può essere sia floating che bloccato. Sì, sì, io l'avevo fatto su altre chitarre. Esatto, si può. Di fatto, lì poi è una questione, se non lo usi verso l'alto, conviene bloccarlo, secondo me, a quel punto. Certo. Tanto ti devi una possibile problematica. È possibile. Uno dice, no, non lo userò adesso, magari un domani lo voglio usare verso l'alto. Lo blocchi con le molle, sì. Esatto, esatto. Più o meno questo è tutto. Comunque è proprio bella. Anche adesso, senza lo split, scusami, quindi un bacher completo, c'è comunque un bellissimo attacco, bello ciccioso. Sì, sì, sì. Lo pacciocco. Ah, un bel attacco, esatto. Considerando che io sto usando anche un plettro da 0,50. Ok, veramente? Sì, 0,50. Perché comunque di base van Allen è quella cosa lì. Ok. È proprio il plettro molto morbido e quindi altri suoni magari sono tanto legati anche a questo. Quindi immagina con un plettro già da un millimetro che attacco puoi avere. Certo. Ecco, quindi se già così ce l'ha, immagina con un plettro diciamo più standard. Come cosa. Chitarra super, secondo me, ma ve l'avevo già detto quando appunto avevo fatto l'altro video. Trovate in descrizione tutti i link sia su Instagram che alla chitarra stessa, così magari vi leggete bene con calma le specifiche. Non ci perdo troppo tempo perché tanto quelli, insomma, tiglio, acero, insomma, basta leggerle e finisce lì. Sei corde, esatto. Eccetera, eccetera. E questo è quanto. Fateci sapere nei commenti se vi è piaciuto. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Insomma, sempre la solita litania da dire alla fine di ogni video. E grazie Mattia. Grazie a te. Grazie mille. Grazie a te. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.